Di riforme e di regionali parla al Tg1 il ministro dello sviluppo economico Claudio Scaiola. Nell'intervista di Dino Sorgonà ha anche l'annuncio di nuove misure per la ripresa. Sentiamo. Ministro, nel 2009 la crisi è stata pesante, ma adesso, negli ultimi mesi, ci sono segnali positivi. Che cosa intende fare il governo per sostenere la crescita nel 2010? La crescita è molto debole. Dobbiamo impegnarci a sostenerla con grande forza. Stiamo definendo un programma che presenteremo nelle prossime settimane di rafforzamento della crescita focalizzato su incentivi al consumo in quei settori che investono su innovazione e ricerca. Non soltanto il settore dell'auto, ma tutti i settori che hanno bisogno di incentivi per poter competere e crescere in questo anno. Le riforme sono ritornate al centro del dibattito politico. Si debbono fare, si dice, dialogando con l'opposizione. Le riforme servono agli italiani, perché per crescere dobbiamo riformare quello che non va. Per riuscire in questo obiettivo ben venga l'aiuto dell'opposizione. Ma se non ci sarà, andremo avanti da soli. E l'Udc? L'Udc è una componente importante dello scenario politico italiano. Appartiene al Partito Popolare Europeo. Mi pare però che oggi stia perseguendo la politica dei due forni sulle elezioni regionali. È la vecchia politica che non condividiamo. Ma anche nella PDL ci sono stati differenti opinioni? Sono stati degli eccessi, mi pare naturale, in un partito nuovo che sta crescendo. Ma quello che deve essere chiaro è che quando il nostro partito prende delle decisioni, quelle decisioni devono valere per tutti.